I PID, Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio, sono il punto di riferimento per tutti gli imprenditori che vogliono digitalizzare la loro impresa e approfittare delle opportunità legate all'uso delle tecnologie 4.0 per entrare a pieno titolo nell'economia digitale. Ma in che modo i PID aiutano gli imprenditori? I PID, Punti Impresa Digitale, offrono alle imprese strumenti specifici per misurare il loro livello di maturità digitale in chiave 4.0 e definire con maggiore precisione le strategie di miglioramento. Selfie 4.0 è un questionario di autovalutazione, da compilare online, che restituisce automaticamente un report sui livelli di digitalizzazione dell'impresa. Zoom 4.0 è una valutazione più approfondita, svolta direttamente in azienda insieme al digital promoter della Camera di Commercio, che permette di definire in modo più dettagliato i percorsi di digitalizzazione da intraprendere. Digital Skill Voyager, dedicato a studenti e lavoratori, è un test per misurare le proprie competenze digitali attraverso un percorso a tappe in chiave digital. I PID realizzano incontri di informazione e formazione sulle tecnologie 4.0. Così le imprese possono acquisire un quadro più chiaro e capire come migliorare, attraverso il digitale, processi di lavoro, prodotti e servizi. I PID si avvolgono di un network di professionisti che, nel ruolo di mentor, supportano gli imprenditori nelle scelte da compiere sui temi del digitale e del change management. Attraverso i PID si viene indirizzati verso i servizi avanzati proposti dagli altri attori del network impresa 4.0, quali i Competence Center del mondo universitario, i Digital Innovation Hub e gli ecosistemi digitali dell'innovazione delle associazioni di categoria. Tutte le principali strutture che operano a livello nazionale per favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese si trovano su atlantei4.0.it. I PID mettono a disposizione delle imprese dei voucher per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito impresa 4.0. I voucher sono erogati direttamente dalla Camera di Commercio, attraverso bandi ai quali possono partecipare imprese singole o, se condividono un progetto di innovazione, organizzate in gruppo. Che aspetti a entrare nell'economia digitale? Contatta il PID della tua Camera di Commercio o vai su puntoimpresadigitale.camcom.it